Ah, ma voi siete al governo? Potreste fare più cose? Maggioni rappresenta l'8% a livello nazionale. Perché? Perché l'8% non l'ha inventato Maggioni, non l'ha inventato Boni, non l'ha inventato la Dega. L'8% è la percentuale di voti che ha a livello nazionale. Allora, con l'8%, così ci capiamo su tutto, da che parte sto io, si conta per l'8%. Siccome è finito il provvizio, qualcuno verrà a dirmi, come è successo prima, quant'è che bollate per lo scuolo? Quant'è che cambiate? Bene, vogliamo per lo scuolo per andare con chi? Con Bersani? Con Vendola? Con Di Pietro? Con Fini? Con Casini? E allora, o ci date i voti, o se no diventa un po' più difficile.